Salvatore, io vi strapperò l'anima d'adosso e dopo a bella calpestata per falla grande ve l'ardarò insanguinata come una bandiera. Per fortuna non mi sono mai trovato in una situazione che stridesse con quello che ero, ero cosciente in ogni film perché facevo quel film con chi stimavo, ho stimato tutti quelli con cui ho lavorato. Grazie Grazie Grazie